buongiorno a tutti e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale questo è un video che avevo tantissima voglia di fare perché mi piace sempre riguardare alle letture dell'anno precedente e vedere quali siano stati i cosiddetti top e flop nel mio caso più che di flop in realtà si parla un po di delusioni perché nessuno dei libri che ho citato tra i flop sono secondo me dei flop di per sé ma soprattutto rispetto alle aspettative che avevo si sono rivelati abbastanza deludenti ecco mettiamola così vorrei mantenere questo video abbastanza breve perché di tutti questi libri io ho già parlato in tutti i wrap up dell'anno quindi se qualcosa vi interessa particolarmente magari chiedetemelo qui sotto non vi starò a linkare ogni singolo video e però mi potete chiedere magari in quale wrap up trovare la recensione particolare di quel libro cominciamo subito dai top five che sono stati veramente molto facili da individuare nonostante le tantissime letture dello scorso anno perché come dico sempre io non do praticamente quasi mai 5 stelle su Goodreads quindi quando scorro le mie letture e vedo le 5 stelle sono loro i preferiti dell'anno non c'è altro da dire in questo caso credo che solo due no anzi in questo caso tre titoli su 5 erano 5 stelle su Goodreads e sono le uniche 5 stelle che ho dato e poi ce ne sono un paio che comunque erano 4 e mezzo barra 5 semplicemente non mi riuscivo bene a decidere cominciamo dal preferito assoluto perché in realtà tutti gli altri quattro sono più o meno tutti lì ma il la scoperta e il preferito assoluto dell'anno è stato un altro mondo di James Baldwin io di questo libro vi ho già parlato in lungo e in largo però assolutamente per tematiche caratterizzazione dei personaggi scrittura ambientazione è stato il libro che mi ha veramente rubato il cuore l'anno scorso è un libro che avevo iniziato a leggere già nel 2019 in inglese ma mi ero interrotta perché non era il suo momento e invece nel 2020 ripreso in mano letto nella versione italiana edita dal Fandango Libri io mi sono follemente innamorata io voglio assolutamente recuperare tutti i libri di questo autore pian piano magari non leggerli tutti uno dopo l'altro perché non sono tantissimi quindi vorrei un attimo diluirli nel tempo per poterlo conoscere bene ma questo libro mi ha straziata e accolta in tantissimi modi ed è veramente un libro che parla di tematiche difficili quindi si parla di segregazione razziale si parla di omosessualità si parla di accettazione di sé e accettazione nell'ambito della società e lo si fa veramente in una maniera meravigliosa da tutti i punti di vista quindi per me è assolutamente consigliato se cercate una lettura profonda che vi tocchi che tocchi tanti temi importantissimi scritto mi sembra a fine anni 60 questo libro però veramente super attuale e veramente secondo me importantissimo quindi non spenderò mai abbastanza parole entusiaste e di amore totale per questo libro quindi mi fermo solo perché insomma non ha senso continuare ad andare avanti poi altro grandissimo favorito del 2020 di cui vi ho parlato super recentemente questo lo so nel wrap up di dicembre parte prima no parte seconda è stato Circe di Madeline Miller questo cosa ve lo dico a fare tra bellezza della scrittura ricchezza dei personaggi temi che conosciamo ma in realtà non li conosciamo in questa veste è stato veramente una è quello che ho chiamato la rivelazione perché tra l'altro non mi aspettavo che un libro così chiacchierato e così conosciuto mi potesse riservare tante sorprese quindi assolutamente consigliatissimo mi dicono che la canzone di Achille sia ancora più bello credo che lo leggeranno il 2021 amato follemente Circe poi l'unico libro che non possiedo fisicamente perché l'ho letto in ebook e vi metto la copertina qui è stato dieci piccoli indiani di Agatha Christie che ho letto durante il primo lockdown e l'ho ringraziato tantissimo perché è un libro che mi ha assolutamente travolta nel senso di catturata tantissimo il classico libro che si sta sotto le coperte fino a tardi a leggere ha un intreccio secondo me perfetto con dei colpi di scena pazzeschi dei personaggi veramente molto belli e caratterizzati molto bene ed è stata la mia prima lettura di Agatha Christie e anche quella che mi ha folgorata e mi ha fatto desiderare di leggere tutto quindi assolutamente un grandissimo top del mio 2020 ho letto anche poi Assassinio sull'Oriente Express e mi appresto a leggere altri titoli di questa autrice poi altro grandissimo preferito dell'anno e altra sorpresa meravigliosa e altra riscoperta perché come vedete questa edizione è abbastanza vecchia e parla da sola è l'Isola di Arturo di Essa Morante questo l'ho letto a Procida quindi nel posto in cui il libro è ambientato credo che anche questo abbia fatto tantissimo perché mi sono sentita totalmente immersa in quell'atmosfera e c'è di più l'ho anche ascoltato in audiolibro letto da Iaia Forte quindi è stata un'esperienza totale da tutti i punti di vista lettura, ascolto, ambientazione, ero lì quindi è stato bellissimo non pensavo che un cosiddetto classico mi potesse stupire tanto forse un po' la cifra di tutti questi libri è stata che mi ha veramente stupito positivamente la lettura in questo caso le ambientazioni sono meravigliose la storia raccontata, i temi affrontati attraverso gli occhi di questo ragazzino veramente bellissimo ed è il classico libro che tra l'altro io mi immagino di rileggere tra qualche anno ma nel frattempo mi ha fatto venire voglia di leggere la storia di Elsa Morante quindi sarà fatto anche questo prossimamente e poi l'ultimo di cui voglio parlare e vorrei far notare che nei miei libri favoriti 4 su 5 sono scrittrici donne non credo sia un caso è Dio di Illusioni di Donna Tart qui ero un po' indecisa su quale fosse il quinto veramente top dell'anno però se ripenso a come questo libro mi ha trascinata in un'ambientazione veramente super vivida con una scrittura bellissima dei personaggi che ancora adesso in qualche modo mi sono rimasti dentro doveva essere lui il quinto Dio di Illusioni è secondo me una storia che si legge a tantissimi livelli viene caratterizzato come thriller perché c'è effettivamente un aspetto noir nel racconto ma in realtà è qualcosa che ci viene svelato tipo alla prima pagina quindi di fatto non stiamo leggendo un mistero che va svelato ma secondo me c'è del romanzo di formazione c'è molti molti livelli di lettura i personaggi mi sono piaciuti tantissimo l'ambientazione è favolosa mi ha fatto desiderare di andare in Vermont a vedere le foglie degli alberi in autunno e quindi alla fine ripensandoci era lui diciamo il quinto favorito dell'anno ha veramente una scrittura molto elegante non è un libro che ho divorato come credo in realtà nessuno di questi forse un po' l'isola di Arturo perché ero in vacanza e avendo l'audiolibro ho anche un pochino insomma accelerato il ritmo e un po' 10 piccoli indiani perché è anche un libro molto breve e con un intreccio molto fitto però Dio di Illusioni, Circe e Un altro Mondo li ho veramente assaporati prendendomi tutto il tempo di cui avevo bisogno quindi devo dire che in quanto a top quest'anno sono veramente soddisfattissima e spero solo di replicare con libri che ho amato altrettanto nel 2021 veniamo rapidamente ai flop perché non voglio dedicarci tantissimo tempo nessuno di questi lo possiedo più in cartaceo anche se praticamente 4 su 5 li avevo letti in cartaceo ma non li ho più vi faccio una rapidissima carrellata il primo è il libro dei Baltimore di Joel Dicker questo è il classico libro che ti fa un po' l'effetto lettura super veloce perché vuoi andare avanti a vedere cosa è successo ma secondo me è molto ripetitivo rispetto a per esempio la verità sul caso Enrique Bear non mi ha fatto impazzire la caratterizzazione dei personaggi credo che Joel Dicker non sia ancora in grado di costruire un personaggio femminile forte, sfaccettato ed interessante perché secondo me è troppo impegnato con i protagonisti maschili e i protagonisti in particolare e insomma l'ho trovato avvincente ma alla fine un po' vuoto a livello di personaggi, contenuto e anche lo stile l'ho trovato onestamente un pochettino ripetitivo quindi questo è stato assolutamente una delusione non che mi aspettassi chissà cosa però avrei voluto un pochino più di sostanza poi secondo titolo anche qui vi metto la copertina è stato La meccanica del cuore di Malzie mi sembra si chiamasse l'autore questo l'avevo ricevuto in un book swap me lo sono divorato nell'arco di due giorni in vacanza mi è dispiaciuto perché le ambientazioni erano molto carine è ambientato a Edimburgo alla fine dell'ottocento c'è un po' questa atmosfera steampunk a livello di atmosfera è veramente molto carino però onestamente la storia l'ho trovata veramente non lo so come dire basic e lo stile dell'autore non fa per me è sicuramente come dire scorrevole, vivace però ci ho trovato veramente poco e in alcuni tratti mi ha anche un pochino infastidito perché mi sembrava che cercasse di fare a tutti i costi qualcosa di strambo e fare fuochi artificiali con la scrittura ma secondo me con pochi risultati poi altro libro che ho trovato abbastanza deludente per me purtroppo è stato come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita non che mi aspettassi di trovarci chissà cosa però ogni tanto mi piace leggere dei libri di self help per anche un po' capire i vari filoni di questo genere magari trovarci qualcosa di interessante e questo secondo me ha degli spunti interessanti ma ha una scrittura così forzatamente simpatica e divertente che se non ti piace quel genere di umorismo non trovi interessante neanche il libro e c'è da dire anche che ha un sacco di nozioni scientifiche interessanti ma secondo me si perdono in questa volontà dell'autore di fare il simpatico a tutti i costi e quindi ti fa anche un po' come dire trattenere meno le nozioni di cui parla quindi per me è stato anche questo deludente altro libro che è stato in realtà una rilettura è stato il waltzer degli addi di kundera questo l'ho letto per il mio primo pezzi d'autore e sono rimasta veramente male perché è un libro che quando avevo 18-19 anni avevo amato follemente e riletto oggi l'ho trovato veramente anacronistico e misogino a livelli che non ricordavo questi personaggi femminili che vengono trattati proprio male dipinti come dei personaggi vuoti superficiali donne che aspirano solo a farsi mettere incinte per incastrare gli uomini veramente mi ha delusa da morire perché in questo caso ne avevo un ricordo luminosissimo come di una lettura che avevo amato follemente e quando l'ho riletto mi sono detta ma dove ero con la testa non le vedevo queste cose quindi questo mi ha proprio fatto rimanere male perché nella rilettura ho trovato tante cose sbagliate tra virgolette in questo testo di cui non mi era assolutamente accorta quando ero più giovane quindi questo oggettivamente mi ha fatto anche un po' male e concludo con il quinto titolo deludente dell'anno che secondo me ormai lo sapete cosa voglio dire perché ne ho parlato da pochissimo ed è finché il caffè è caldo di Kawaguchi non mi ricordo mai il nome scusatemi e di questo vi ho parlato nel wrap up di dicembre è stato un caso editoriale che onestamente non mi sono spiegata ma sono stata contenta di averlo letto perché almeno mi sono fatta la mia idea però l'ho trovato veramente molto superficiale considerando i temi che tratta e con un potenziale fortissimo che era il tema del viaggio nel tempo abbinato all'esperienza vissuta da ognuno e quindi al perché ognuno di noi vorrebbe tornare indietro per qualche motivo ma secondo me è sviluppato veramente in maniera povera e superficiale l'ho trovato anche un po' nella scrittura ripetitivo e poco incisivo ecco quindi questi sono i cinque libri che per un motivo o per l'altro mi hanno delusa come dicevo vabbè insomma ovviamente nessun top e nessun flop è di per sé un top o un flop dipende come si colloca nelle nostre letture quindi ci tenevo a fare questo resoconto più che altro per i top e anche magari per ricordare a me stessa per quanto riguarda i flop che non sempre il caso editoriale o il libro insomma di cui tutti parlano benissimo ha poi in realtà ragione di essere tale quindi va bene farsi la propria idea e magari in qualche caso toccare con mano se si tratti effettivamente di qualcosa di super valido e sono stata contenta insomma almeno di aver di essermi fatta la mia idea riguardo ad alcuni di questi libri io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi fatemi sapere qui sotto quali sono stati i vostri top e flop del 2020 sono molto curiosa di sapere quali sono i libri che avete amato o che vi hanno delusi l'anno scorso e noi se vi va ci vediamo al prossimo video ciao ciao